La droga uccide, la droga fa male, quella è gentaglia che deve stare Le cooperative agricole belle, le sane, non hanno avuto voglia di sistemare Tuna telefonata, una citofonata, perché poi Bibiano E al primo piano è il paese dove è nato il parmigiano reggiano Questi fenomeni da San Patrignano Abbracciare, disturbare, ditemi voi se è normale Disturbare, abbracciare, famiglie belle, famiglie sane Strada per strada, qualunque cosa accada Strada per strada, qualunque cosa accada Strada per strada, c'è gente che vuolunque cosa accada Cos'è? Colpa di Salvini Cos'è? Colpa di Salvini Grazie a tutti